Sì, era in 1989 e ad Aosta, con i cidi della Valle d'Aosta e l'IRSAI Val d'Aosta, e anche con la collaborazione degli enti locali, che all'epoca avevano ancora qualche soldo per finanziare i convegni della società civile, organizzammo un convegno dal titolo i promessi lettori. Io ho ripreso in mano il libro dopo tanto tempo, l'ho aperto e vi voglio leggere l'incipit di uno dei relatori, era Fernando Rotondo, all'epoca preside di scuola media, che poi negli anni si è continuato a occupare di queste cose, che aprì il suo intervento così. Undicesimo, Ama Manzoni. Nel Liceo Cristoforo Colombo di Genova si conserva un registro del 1934, nel quale nella casella dello studente Paolo Murialdi, destinato poi a diventare redattore capo del giorno, segretario della Federazione Nazionale Stampa e oggi, oggi 1989. Autorevole, storico e studioso di problemi dell'informazione, ancora oggi in quel registro si può leggere la seguente nota di Biasimo. Due punti, aperte virgolette, l'alunno ha dichiarato di non amare Manzoni. Chiuse virgolette. Non ci si deve meravigliare quindi della rigorosa coerenza dei risultati di un'indagine svolta dal Centro Studi Letteratura giovanile sui libri di narrativa, nel biennio 87-88. 278, di cui 182 italiani e 96 stranieri, adottati nelle scuole medie genovesi nell'anno 87-88. Il più adottato è i Promessi Sposi. In 25 scuole e 48 classi seguono, però fate attenzione ai titoli che seguono, L'amico ritrovato, 20 su 31, Nettare per gli dèi e Spade per gli eroi, 15 su 24, un'antologia di brani mitologici, non bastava quella di prima, a noi è quella, è un inciso. Il Decameron, 13 su 21 classi e poi ultimo Momo, 13 e 14. Ecco, in questi autori, in questa rassegna, nell'invito a leggere Manzoni, c'è un po' il perimetro di quel convegno dal punto di vista dei testi. Anche il titolo, i Promessi Lettori, ovviamente strizza l'occhio con un po' di dispetto a Manzoni e anche i titoli delle sezioni che vedete proiettate, tra idee e consumo, problemi e proposte, tra fascino e motivazione, realtà e prospettive. E poi un binomio che tornerà in tutta la nostra introduzione di stamattina, di adesso e poi probabilmente in molta parte del convegno, il conflitto o la sintesi o la simbiosi o l'antagonismo fra piacere e competenza. Io e Pino Assandri ci eravamo un po' spremuti le meningi nei viaggi fra Torino e Aosta per trovare questi titoli, i relatori, uno è qua, era trent'anni dopo, non c'è solo il suo libro ma c'è anche lui, e noi eravamo lì già ad aprire e a chiudere la sezione tra piacere e competenza. Io ho fatto una relazione che si intitolava i confini del lettore motivato, autonomo e competente, di cui vi dirò qualcosa fra un po', e Pino Assandri parlava delle storie. Sì, quel convegno era frutto di un momento particolare, c'era qualcosa che si sentiva nell'aria, qualcosa che era già cominciato prima. Torniamo indietro di due anni, 1987, un anno cruciale, un anno quello che molti considerano l'anno zero per la letteratura per ragazzi in Italia. e tanti lo legano simbolicamente all'uscita di una collana di libri di narrativa di varia, una collana famosissima che esiste ancora oggi, gli Istrici Salami. I primi due titoli, usciti appunto nell'87, sono, programmaticamente, non a caso, il GGG e le streghe di Roald Dahl. Questa collana, diretta per tanti anni da Donatella Sigliotto, sono usciti poi più di 400 titoli, ha avuto il grande merito di aprire le porte, di far conoscere in Italia la grande letteratura per ragazzi straniera, che era pochissimo conosciuta. E quindi sono entrati libri autori che venivano dalla Norvegia, dalla Svezia, dal Regno Unito, da altri paesi anglosassoni, quindi non solo Dahl, ma anche tanti altri, Christine Nusslinger, Astrid Lindgren e tanti altri. Ecco, quindi questo è stato davvero un momento, un momento speciale. E quindi l'87 è un anno, un anno veramente, un anno veramente da ricordare. Le biblioteche di pubblica lettura, laddove esistevano, facevano da traino, mettevano in comunicazione, facevano circolare questi nuovi libri. E poi a Milano, già da un po' di anni, ma diciamo che in quegli anni aveva raggiunto una grossa rilevanza, una grossa presenza, la libreria dei ragazzi, la prima libreria dei ragazzi fondata da Roberto Denti nel 1972. Era questo di nuovo un punto di riferimento, un luogo di scambio, un luogo di incontro e lo sarà per molti anni. E poi di lì le cose sono andate velocemente. L'anno dopo, nell'88, ricordo che è stato il primo anno che sono andato alla Fiera di Bologna e non ho mai smesso, nell'88 sono usciti, è uscita un'altra grande collana, gli Junior Mondadori, i Tascabili, avevano i primi un titolo un pochino in rilievo. Era bello passarci le dita sopra, dava un senso così di appartenenza. Tutto questo ha contribuito a far entrare anche a scuola, all'inizio timidamente, quello che è la letteratura per ragazzi che in Italia è stata e purtroppo ancora in parte è considerata una letteratura di serie B, a differenza di altri paesi. Quindi diciamo che quegli anni, quel periodo d'oro, possiamo dire che va un po' fino alla fine degli anni 90, fino all'inizio del nuovo secolo, del nuovo millennio. In quegli anni l'uscita poi nel 1987 del libro di Armando Detti è stata importante perché, basandosi ovviamente su studi precedenti, su tanti contributi che l'autore riconosce nel suo libro, diciamo che ha in qualche modo sdoganato il piacere di leggere. Ecco, ha incoraggiato anche chi nella scuola credeva, e io ero tra questi, insegnavo in una scuola media della provincia di Torino a quei tempi, gli credeva che il piacere di leggere potesse essere coltivato. Già, il piacere di leggere. Che vi dicevo prima, in quegli anni, ma anche in tutti i 30 che sono seguiti, è stato spesso contrapposto all'analisi del testo, alla lettura analitica, e anche noi giocavamo, come abbiamo visto, su quel binomio, su quella contrapposizione fra piacere e competenza, però nell'intenzione, con la volontà di darne non una contrapposizione, ma una sintesi. Abbiamo recuperato uno strumento dell'epoca. Non è facile trovarne dei funzionanti, ringraziamo l'Alfieri che ha mantenuto questo, l'accerto tecnologico. All'epoca, non esistendo ancora, per fortuna, forse, PowerPoint, usavamo i lucidi e li usavamo a sovrapposizione, come adesso vi andrò a dimostrare. Non leggerete quasi nulla, ma proietterò qua il lucido completo e anche qui non leggerete quasi nulla. Quindi fate un'operazione di fantasia, no? Per cogliere il senso di questa relazione, di questa intenzione, che era anzitutto quella di dire il lettore è un lettore molteplice, che non va scisso a scuola, ma va ricomposto, è un lettore che deve essere motivato, è un lettore che deve essere competente, è un lettore che deve essere autonomo, forse per quello che non esistono lettori. E noi pensavamo che a scuola non bastasse un solo ambiente per realizzare questa unità di progetto educativo, ma che ci fosse bisogno di più ambienti, il laboratorio, l'aula, la biblioteca, dove provare a formare gradualmente un lettore, che come adesso ho spostato anche il lacerto, quindi, eccolo qua, che fosse al contempo motivato, competente e autonomo. Attraverso esperienze in laboratorio di lettura gratificante in aula di lettura orientata e in biblioteca di lettura libera. Quindi più tipi e più modi di leggere, diverse forme testuali funzionali a questi diversi scopi educativi e una rete molto complessa di attività cognitive e linguistiche. Il laboratorio, qui c'è scritto opzionale, cosa su cui alla fine degli anni Ottanta litigammo, discutemmo, se poteva essere opzionale, lettivo, obbligatorio. Ci passiamo quasi un decennio su queste alternative. Il laboratorio di lettura espressiva, di lettura creativa, di lettura ad alta voce, il rapporto con il cinema, la tv e il teatro. Non c'era internet, ma ci sarebbe stato, no? In questo elenco, se fosse stato presente. Per fare operazioni di fruizione, di rielaborazione, di confronto, perché il lettore potesse creare, far crescere una motivazione. Una lettura orientata attraverso i percorsi di lettura, test integrali sia anche antologici, e su questo ritorneremo, per fare le operazioni di comprensione, di analisi, di interpretazione, di contestualizzazione, di commento. Qui c'è un viaggio anche dalla primaria al triennio, in questa evoluzione di atteggiamenti cognitivi, testuali nei confronti del testo. E infine la biblioteca, dove fare scoperta, consultazione, scelta, valutazione, per diventare lettori autonomi. Ecco, noi puntavamo a questa sintesi. Qualche mese fa mi hanno chiesto di scrivere un saggio sul lettore e la formazione del lettore oggi, e ho riscritto queste cose qua. Non so se perché nel frattempo non mi sono venute delle idee nuove, o perché noi tutti non siamo riusciti a realizzarle fino in fondo. Questa è un'età la mia in cui i bilanci si fanno su questo crinale. Un po' si pensa che il tempo oggi sia meglio, e un po' si pensa che se ne sia perso tanto. E nella tentativa di ricomporre, per ogni tanto giocavamo alla contrapposizione, al gioco di ruolo. A me toccava già allora, era un destino, era una preveggenza, un destino tragico, dodici anni prima di occuparmi di competenza, anche se non era quella di cui poi ci si è occupati dalla fine degli anni 90, che ha fatto una brutta fine adesso intralciata da compitini di realtà un po' stupidi, da trasversalità fumosa. Era un'altra competenza, era quella del lettore, fatta di competenze cognitive e linguistiche. Io parlavo dell'analisi del testo e lui andava in giro con l'incenso e le otticine di profumi a parlare di emozioni e di piacere di leggere. Sì perché nella grande casa di Monteuda Po per scaldarsi c'erano otto stufe di tutti i tipi e infatti trafficavo continuamente tra legna, bombole del gas e tanniche di cherosene. avevamo una figlia piccola, molto piccola, il paese era piccolissimo, la casa era quasi isolata, non si captava il segnale televisivo e allora la sera la mamma e il papà quando avevano, avevamo messo a letto, portato a letto la piccola che adesso è un po' cresciuta e avevamo letto la storia per dormire rigorosamente una sera la mamma e una sera il papà, rimanevamo lì e ci chiedevamo e adesso che cosa facciamo? C'era un grande silenzio rotto solo da dei latrati del cane del vicino. E allora fosse per caso, non ricordo quando fu la prima volta, forse venne facilmente come una continuità della lettura fatta della Buonanotte, abbiamo cominciato a leggerci l'un l'altro ad alta voce dei libri, delle storie, prendendo un po' quello che ci capitava, racconti di fantasmi, buzzati, ma anche cose un po' strane, ledda di snorri e le affinità elettive appuntate e così via. E funzionava, funzionava. Allora e quindi in qualche modo questo era già il circolo di lettura, perché alcune parti le leggevamo e altre le raccontavamo. Il circolo di lettura, per la verità, e lo racconto nell'articolo del Pepe Verde che vi abbiamo regalato e messo in cartellina, c'è un articolo che ho scritto io, dove racconto anche molto prima come era nato il circolo di lettura. Poi se avete voglia di leggerlo lo potete fare dopo. Ecco, quindi ci siamo domandati, poiché insegnavamo nella scuola media, allora, perché non farlo a scuola? Questa stessa cosa. Allora abbiamo chiesto al nostro preside, un vecchio preside, una persona tutta ad un pezzo, con una grande moralità e anche una grande fiducia nella scuola, abbiamo chiesto al nostro preside se ci poteva dare in uso uno spazio senza i banchi e le sedie. C'era. E così abbiamo portato lì dei ritagli di moquette, dei cuscinoni, bastoncini di incenso, candele, cui ricordava Mario, vari profumi, coperte e abbiamo cominciato a fare quella che i ragazzi chiamavano, creando un appuntamento fisso, quello che i ragazzi chiamavano andiamo a fare la lettura. Quando è che andiamo a fare la lettura? La lettura si svolgeva così, che noi, e questa cosa poi abbiamo cercato di contagiare alcuni colleghi, i ragazzi ci andavano volentieri anche se all'inizio erano un po' diffidenti, perché si chiedevano ma qual è il trucco, che cosa c'è dietro? Non c'era nessun trucco, si trattava semplicemente di ascoltare e basta, e poi di scambiare le impressioni di lettura, tutto qui. Allora abbiamo pensato ma forse questa idea può interessare anche ad altri. Io sapevo già che cos'era il Cidi, abbiamo preso un appuntamento con la presidente del Cidi, la presidente del Cidi, Gianna Di Caro, siamo andati lì, buongiorno, abbiamo un'idea. E così è nato un gruppo, un gruppo di ricerca, potremmo dire oggi un gruppo di ricerca azione, che ha lavorato per circa un anno e mezzo, composto da insegnanti, da colleghi che sperimentavano questo laboratorio di ascolto, che avevamo chiamato il vizio di leggere. Dopo circa un anno e mezzo abbiamo organizzato, ogni tanto incontro qualcuno che c'era, dice ma mi ricordo quel corso d'aggiornamento che avete organizzato, ma non ne avete più fatti così. Abbiamo organizzato sei incontri, in sei luoghi diversi della città di Torino, un imbarco sul Po, un locale metallaro che avevamo noleggiato, la sala delle colonne della cascina marchesa, eccetera, e abbiamo invitato una serie di persone scrivendogli una lettera per venire a, uno era Roberto Denti e uno era Ermanno Detti. Gli abbiamo scritto una lettera, lui ci ha risposto, era appena uscito il suo libro e così lo abbiamo invitato. Io sono andato a prenderlo alla stazione di Porta Nuova, ricordo che Ermanno Detti aveva un cappottino a quadretti ed era più o meno come adesso, i capelli sono un po' più, più o meno uguali, perché così e da lì è nata poi una collaborazione, un'amicizia che dura fino a oggi. E poi quell'anno, quei due anni sono stati pieni di cose, perché poco dopo abbiamo, con il Goethe Institute di Torino e con l'aiuto di Marco Zapparoli, giovanissimo fondatore della casa editrice Marco Simarcos, che poi oggi incontrerete, abbiamo fatto venire quello che era un po' il nostro mito, Peter Bixell, questo scrittore svizzero che aveva scritto Il lettore e il narrare e le storie per bambini. Ho tenuto i libri di Peter Bixell sul comodino per molto tempo e poi ecco arriviamo in questo anno veloce, l'89, un altro anno che tutti ricordano per la caduta del muro di Berlino, ma non solo, perché alla fine dell'89, e qui Mario torniamo al punto di partenza, c'è stato il Promessi Lettori. Ed eccoci ritornati. Sì, sono passati i trent'anni, però come vi dicevo prima, come diceva anche Pino, ogni tanto abbiamo la sensazione che qualche cosa sia ancora estremamente vivo da affrontare, da fare. Tra l'altro, quell'avventura lì al Cidi non fu mica tanto semplice. Non tutti voi conoscete il Cidi. Il Cidi è una strana bestia, complicata. E a Sandri fece una certa fatica a convincere il Cidi di Torino a organizzare questi incontri. In questi giorni io ho provato, non se l'ho fatto, ho rifatto il presepio, ma dopo tanti anni, perché le figlie sono cresciute, una ha fatto anche una nipotina, quindi per la nipotina abbiamo rifatto il presepio. Solo che sono spariti Gesù, Giuseppe, Maria, il Bue, l'Asinello e Gesù Bambino. Quindi abbiamo il presepio con tutti i comprimari e mancano i protagonisti. Allora io mi sono infilato nel sottotetto per andare disperatamente a cercare i protagonisti, perché in effetti la capanna così è un po' vuotina. Non ho trovato i protagonisti del presepio, in compenso, ieri l'altro ho trovato questo lacerto che Pino non si ricordava neanche di aver scritto, macchina da scrivere. Vi avete capito che questo è un come eravamo quest'inizio, macchina da scrivere. C'erano i primi computer. No, vabbè, ma quelli, si faceva fatica. La cosa interessante, un altro reperto, non tecnologico, ma sto per udire ideologico, ma io lo uso in senso positivo, si intitola Qualche appunto sul rapporto fra esperienza e conoscenza e c'è scritto direttivo del Cidi 28 aprile 1988. Si stilavano documenti per decidere se le offerte culturali e didattiche da fare alla scuola fossero pertinenti con quello che ritenevamo opportuno. Non vi leggo tutto il documento, intenzione di pubblicarlo su Insegnare, però a proposito del conflitto fra piacere e competenza con tutti i suoi annessi e connessi, c'è scritto et-et e non out-out. È quel documentino che vedete tra pixel e il circolo di lettura. Si tratta allora fondamentalmente di una questione di punteggiatura, di pesi da attribuire ai diversi momenti del processo educativo. Ogni momento va visto nell'ambito di progetti complessivi e in relazione agli altri. Forse però non si sottolinea abbastanza l'importanza dell'autonomia, la legittimità di isole collegate via mare ma sempre isole di spazi propri. Ecco, questa idea della molteplicità degli spazi, della molteplicità dei tempi e degli approcci poteva aver senso se entrambi i momenti erano in grado di rinnovarsi. Se la lettura del libro di narrativa si riscattava dal libro unico in cui bisognava leggere soltanto i promessi sposi, o Dante e Omero. E se a sua volta la comprensione del testo trovava un modo di essere più pertinente, più vicina agli obiettivi effettivi di capacità di leggere e di scrivere degli allievi. E qui facciamo ma velocemente un altro passo indietro e poi andiamo avanti. Nel 1975 erano uscite le dieci tesi per un'educazione linguistica democratica che in questi mesi abbiamo ricordato per motivi non sempre lieti e erano anche comparse alcune antologie che avevano modificato l'impianto. Le cito perché sono ampiamente fuori commercio quindi leggere per il progetto lettura ereditavano dai presupposti, dalle idee dell'educazione linguistica democratica fondamentalmente due concetti. Uno che per insegnare a leggere in aula e non in laboratorio e in biblioteca è necessario un progetto triennale fatto anche di scansioni, di obiettivi non forsennati, non paranoici e soprattutto importammo, perché non inventammo nulla, importammo le domande di comprensione. Altra cosa che hanno fatto una pessima fine, ma questo lo vediamo nel 2000. Io usavo molto l'antologia, non solo perché ne avevo scritta una, ma perché era uno strumento in cui credevo e poi dedicavo alla narrativa e mi è piaciuto ricordarla in questa occasione, non ho mai fatto, il mio sabato mattina. All'epoca sabato c'era, quel triennio c'era ancora, e io l'ultimo sabato del mese facevo il racconto del mese. Preparavo rigorosamente la lettura ad altavoce del racconto in modo da cominciarlo affinché finisse non più di due o tre minuti prima della suona della campanella, perché non volevo che tra la fine della lettura e l'uscita dalla classe per andare nel weekend non ci fosse altro che il tempo di ricomporsi, di smettere di piangere se si era pianto, di smettere di ridere se si era riso o di concentrarsi se si era concentrato. L'unica cosa che facevano agli allievi era dare un voto, un punteggio. Ho detto apposta voto, perché non era un voto, ma anche questo arriviamo dopo, alla fine, inevitabilmente. Un punteggio da 0 a 5, poi si faceva la media in modo da poter fare la classifica dei racconti dell'anno e mi piace ricordare, perché a me sono rimasti profondamente nel cuore, i vincitori di queste gare annuali di racconto, perché nelle prime, in tutte le prime che io ho fatto negli anni ha sempre vinto Slatekla Capra, sempre. Quando Biscetti due anni fa mi ha mandato in giro a leggere, nelle giornate di lettura, io ho riportato Slatekla Capra e l'altro, quello della terza media, con enorme successo, 30 anni dopo. In terza vinceva quasi sempre Buzzati, questo è il Colombre, oppure La Giacca Stregata. In seconda, Anno più mutevole, si faceva più fatica a trovare un vero best seller, spesso però vinceva un testo molto difficile, La bilancia dei Balek, di Henry Böll, e mi ha fatto piacere trovare l'immagine su internet di qualche anno fa e della scuola primaria. E Pavone Risorse, un luogo storico della didattica innovativa in questa provincia, e i bambini di quinta primaria, leggendo probabilmente riassunto, perché la bilancia dei Balek integrale è già impegnativa nella scuola media, però hanno rappresentato in sequenza tutte le immagini della bilancia dei Balek, se gironzolate un po' in internet le ho trovate, ed è estremamente interessante. E questi erano un po' l'approccio degli anni Ottanta all'antologia, ai racconti, agli altri modi di leggere. E così arriviamo agli anni Novanta, anche perché sono alle nove e mezza, dovremmo stare rigorosamente nei tempi, perché non l'abbiamo provato, quindi potrebbe durare fino a mezzogiorno, ma ci siamo messi d'accordo che a un certo punto ci fermano, e poi anche perché man mano che ci avviciniamo al presente è più asciutto, è più asciugato il ricordo. Per motivi di età ovviamente, sapete che man mano che si va avanti si ricorda meglio l'infanzia che non gli ultimi anni, non perché ci piacciono di meno. I faticosi anni Novanta. Sì, a un certo punto cambiano le antologie. Questi riferimenti alle antologie li faccio, in particolare della scuola media, perché io ho sempre pensato che la storia delle antologie della scuola media, che andrebbe fatta sul serio, è molto significativa della storia, della didattica, della comprensione del testo nella scuola italiana. Più che quelle della primaria o del bienio o del triennio, che sono legate ad altre dimensioni in qualche modo più ossificanti, più dure da modificare, le antologie della scuola media sono cambiate molto in questi trent'anni. E a un certo punto successe qualcosa. Nel 1993 uscì come un romanzo di Daniel Pennac con i suoi diritti del lettore che rompevano la rigidità del rapporto obbligatorio, no? Molti di voi lo conoscono, lo sanno, con tra lettura e lettore, riconoscendo il diritto di smettere un libro, di lasciarlo, di riprenderlo, di dire che non mi piace, di dire odio Manzoni. E qualche anno dopo uscì Biblioteca. Biblioteca è stata un'antologia di enorme successo, nata qua a Torino, quasi per caso. Forse salvò perfino la casa editrice. Gli introiti che ebbe negli anni successivi furono enormi. una quantità, molti saranno stati allievi qua presenti di biblioteca, tra i più giovani. Biblioteca, rispetto alla tradizione delle antologie precedenti, in realtà svolgeva due funzioni di innovazione. Tre. La terza meno positiva. La prima era introdurre i testi degli autori non ufficialmente presenti nella scolastica. Gli autori che prima ricordava Pino entrano nella scuola, nell'antologia, con Biblioteca. E l'altra innovazione sono alcuni inserti dedicati alla scrittura creativa, forse ce n'era addirittura negli anni successivi uno alla lettura espressiva, alla lettura ad alta voce. Cioè si fa, si apre uno strumento così chiuso nell'aula scolastica a modalità che invece dovevano essere realizzate in laboratorio. L'aspetto meno positivo è che si perde un po' il rigore nella progressione delle domande sui testi. Fare domande ai testi è un'operazione molto complicata. È molto facile sbagliare. E ogni tanto si sentiva che alle autrici, forse non è che interessasse di meno, ma erano attratte e coinvolte da altre variabili. Sì, sono stati anni in cui sono cambiate molto le antologie, ma non solo. Sono cambiate anche le librerie per parlare di qualcosa che sta fuori dalla scuola. Lattes aveva una libreria, sono andato a studiare in questi giorni, inaugurata nel 1893. Lattes esisteva dal 1865 e nel 1893 chiede i locali di una caffetteria che stava sotto ai locali della casa editrice e inaugura questa libreria che è stata per decenni una delle librerie storiche di Torino. Oggi, dal 2005, al posto c'è il negozio di una multinazionale giapponese di oggettistica. Io ho fatto una riflessione amara. Lattes ha resistito alle leggi razziali, al fascismo, alla seconda guerra mondiale. Non ha resistito alle leggi del mercato e della globalizzazione e del progressivo ritrarsi del lettore e del frequentatore di biblioteche e di librerie. Sì, questo è stato uno dei tanti segnali, non l'unico, chi vive a Torino sa che di librerie storiche se ne sono chiuse moltissime. Ne cito solo due, Paravia e Petrini, e non le cito a caso, perché sono due librerie legate a importanti case editrici di scolastica che ogni tanto, forse per riscattarsi della colpa di fare libri scolastici, mettevano in scena librerie dove si potesse leggere anche qualcos'altro. Ma fuori dalla scuola cosa succedeva? Fuori dalla scuola ci sono succedute in quel tempo diverse stagioni. Sarebbe lungo raccontare e non lo faremo. Ad esempio, la case editrice PM, il battello a vapore, ha portato, erano gli anni dell'animazione alla lettura, una rivista leggendo leggendo, che esiste ancora oggi, con i corsi di formazione per animatori alla lettura. Un'altra grande case editrice, raccontavo prima degli istrici e poi degli Junio Mondadori, la Mondadori Ragazzi, che in quegli anni era guidata sapientemente, fino agli anni 90, da Francesca Lazzarato, la Mondadori Ragazzi aveva provato addirittura a fare, a diffondere, un giornale, una rivista per ragazzi, che si chiamava Mondo Junior, ne ho ancora un numero a casa ma non lo trovavo più, ma c'è, che era curato da un certo Eros Miari, mi pare. Deve essere arrivato nel frattempo. Buongiorno Eros. E poi, nella scuola, tra l'altro, negli stessi anni, anche lì succedeva qualcosa di interessante. Nel 1995, governo tecnico Ciampi, il Ministero della Pubblica Istruzione fu affidato a un tecnico, Giancarlo Lombardi, industriale tessile, di area cattolica progressista e soprattutto noto come grande capo scout. Lo ricordo nel 1975, alla Mandria Torino, guidare la route degli scout di tutta Italia. Quindi, un grande capo scout, però una persona, diciamo, più simpatica e più modesta di un altro scout che poi ha avuto un grande successo negli ultimi anni. Giancarlo Lombardi fece una circolare, qualcuno se la ricorderà, la circolare 105. Scusa, Pino, ti devo interrompere, perché è dimostrazione del fatto che non siamo professionisti nel fare questa cosa. Io ho sbagliato salto. Ma io... Tu hai fatto benissimo. Ma io... Come fanno gli attori? Io lo so, sei stato bravissimo. Però a me, in questo momento, un po' spiaceva perché, in realtà, il passaggio successivo era, non era che cosa succede dietro la scuola, ma era una di quelle cose che bisogna assolutamente dare al compagno di battuta ed era, a un certo punto, nella storia delle antologie, anche voi avete deciso di prendere il volo e, infatti, vedete che lì non c'è quello di cui stava parlando, ma adesso lo riprenderà dopo più velocemente, ma c'era il volo, anzi, il circolo dei lettori. Sì, in realtà la prima antologia, ne parlerò brevissimamente, si chiamava, non poteva essere diversamente, si intitolava Circoli di lettura. Io, per la verità, ero uno degli autori, gli altri erano Paola Bertolino ed Elena Mutti, che ha sempre curato tutti i progetti delle antologie passate, presenti e future. e quindi in Circoli di lettura abbiamo provato, avevamo provato a mettere un po' tutto quello che avevamo scoperto, leggendo, curiosando, andando in giro, studiando, andando, cercando di copiare da qui, dappertutto, da Bixel a Luca Ferrieri, a tutte le cose che avevamo scoperto in giro, cercando delle chicche, a volte anche fin troppo ricercate, a volte anche di autori tedeschi, semi sconosciuti, insomma, ci avevamo messo di tutto. E quegli anni erano poi gli anni, anche, ne accennava già Mario prima, delle collane di narrativa scolastica, che poi sono state, anche giustamente, messe in discussione, criticate, per il fatto che avevano delle attività didattiche in fondo al libro, e si diceva, anche giustamente, che questo rischiava di soffocare. L'unica che le aveva in fondo al libro era la mia collana, gli altri le avevano alla fine del capitolo. E mi ricordo ancora il pomeriggio passato da Mondadori a cercare di convincere una delle più grandi editor dell'editoria scolastica italiana a staccare le attività dal romanzo e a farle in un fascicoletto a parte. Mi disse che non era assolutamente possibile ed economico e un anno o due dopo l'ha fatto a Delphi, che è un grande successo. E poi fu fatto. Diciamo che, ricordo Roberto Denti e tanti altri in particolare, che avevano, che parlavano di libri alla griglia, con le griglie in fondo, le schede, giustamente. Non era in realtà tutto da buttare, perché ad esempio l'idea che nella scuola l'analisi del testo non è una bestemmia, che bisogna farla, era un'idea giusta. Bisogna sempre trovare i modi e i tempi, et et e non out out, come dicevamo prima. Tra l'altro, per vostra grazia, io non parlerò delle domande di comprensione, anche perché non è il luogo e il modo adatto. Le domande di comprensione bisognerebbe incominciare davvero a studiarle a scuola, lo dicevo prima, con un po' più di attenzione e di rigore. No, io vi voglio ricordare e mi voglio ricordare, perché anche questo l'ho fatto raramente, un'altra attività che a me negli anni è sempre piaciuto realizzare, anche questa era di fine orario scolastico, non più al sabato, perché nel frattempo era stato abolito, ma al venerdì pomeriggio. Le ultime due ore del venerdì pomeriggio, nel tempo prolungato, in zone complicate, non sono semplici. Oggi mi dicono ancora peggio di quelle che passavo io, però già allora, come dire, le ultime due ore del venerdì davano un po' di preoccupazione e di problemi. E allora nelle due ultime ore del venerdì, nelle mie classi, si parlava dei libri letti, se si voleva parlarne. Era dedicato alla biblioteca scolastica, ai libri comprati in libreria, e l'unica cosa che facevano, e questa era una mia provocazione sulle griglie, dato che quando io sentivo parlare di testi alla griglia, sentivo il carbonello accesa sotto, perché sapevo che ce l'avevano anche con me, no? Io li facevo le domande di comprensione sui testi, quindi quando lessi la prima volta Lidia De Federicis, che parlava di non mettere i testi sulla griglia, ebbe un certo turbamento assai profondo. E allora la scheda che davo da fare ai miei allievi dopo aver letto il romanzo era solo quella, autore, titolo, prima edizione, genere, tre righe per la trama, tre righe e tre, per fare il risvolto di copertina e non il riassunto, un indice di gradimento, e poi, cosa che fu molto interessante negli anni, non ho tempo a leggervene, ma li ho tenuti tutti, le più di 400 schede dei miei allievi di due o tre anni, e sono molto belli i consigli per la lettura, perché non sono mai soltanto a una persona fisica, sono a categorie, no? Per cui si suggeriscono i libri ai cacciatori, se è zanna bianca, però la cosa che vi volevo far velocemente vedere, invece, è un'altra, ed è abbastanza interessante, questa è la classifica dei primi dieci del triennio 94-97. Vedete che tra i primi dieci ci sono Ullmann, il primo numero è il numero dei libri letti, e il secondo è quanti lettori, no? Per cui, ad esempio, di Ullmann era stata letta tutta la trilogia da otto allievi diversi, uno non era arrivato al terzo volume, se non sarebbero stati noi, o forse era anche di... Calvino, Alcott, Dahl, Frank, Grevel, Tamaro, Twain, Barnett, Endy, London, Orwell, Pizzorno, Stein, Strasser, Dumas, è molto interessante perché questa è il melting pot, ci sono autori tradizionali, ci sono autori importanti, ci sono autori di letteratura per ragazzi, 2001-2004 sono invece quelli che vedete a lato, la classifica è cambiata molto, è arrivato il draghetto. Rowling, cinque libri per 38 letture, qui la presenza del mercato, e anche di una collana, e di una serie di libri di estremo successo, è evidente. Roald Dahl, Del Ponte, Alcott, Agatha Christie, e via via tutti gli altri. Per arrivare ai classici bisogna scendere fino a Verne e a Dumas. Questi libri li sceglievano rigorosamente loro, erano liberi di leggerli, di smettere di leggerli, di non leggerli, l'unico obbligo che avevano era compilare quella scheda che avete visto e se volevano, al venerdì pomeriggio, nelle ultime due ore del tempo prolungato, parlarne agli altri per raccontare. E vi voglio solo leggere, sono tante le impressioni di lettura che in questi anni abbiamo raccolto dagli allievi, però vi voglio solo leggere questa, perché io non so se questa allieva che si chiama Silvia è diventata nella vita una lettrice. Non ne aveva le stigmate. Odarsi, eh? Non tutti erano stati abituati già dall'elementare a leggere libri per conto proprio, ma abbiamo imparato, o almeno io ho imparato, ad apprezzare la lettura, perché riesco a rispecchiarmi in alcune storie. Crescendo però mi accorgo che i miei gusti cambiano. Se prima preferivo i romanzi d'avventura, ora mi piace leggere i libri realistici che raccontano la vita di adolescenti. Continuerò a leggere per notare se con il tempo i miei gusti di lettura cambieranno o rimarranno tali. Io l'ho ritrovata in questi giorni per preparare questo convegno, queste e altre delle definizioni di che cosa avevano imparato in quel triennio. E questa idea di essere lettori, per guardarsi dentro, per imparare a riconoscere i propri cambiamenti mi è piaciuta molto, come eredità di un triennio di lettura. Forse dovrei cercare Silvia, che nel frattempo deve essere diventata grande, a chiedere se fa parte di quelli che leggono almeno un libro all'anno, tanto per tirare su le statistiche. Però ritorniamo dove eravamo, alla circolare del Ministro Lombardi e ci avviamo trionfalmente agli anni 2000 in tempo per finire. Un minuto solo per finire la citazione del Ministro Ex Capo Scout. Questo testo che si intitolava Piano di promozione della lettura nelle scuole di ogni ordine grado è stato il primo e, a mio giudizio, finora unico testo nella scuola italiana che riguarda la lettura di cui stiamo parlando. Niente a che fare con testi successivi, fino ad arrivare alla 107, la cosiddetta buona scuola, che come sapete, di lettura, di libri, di biblioteche, non parla mai. Non pervenuto. Se non per due brevissime citazioni, parlando d'altro. Probabilmente di mercato. Viva Giancarlo Lombardi, lotta insieme a noi. Cosa stavamo dicendo? Dove eravamo rimasti? Dunque, adesso consultiamo il canovaccio. Consultiamo il canovaccio. Perché Tottò e Peppino fanno un po' fatica. Loro erano più bravi. Siamo arrivati a finire agli anni 2000. Ma qua facciamo in fretta. Facciamo abbastanza in fretta perché non abbiamo intenzione di parlare dell'invalsi. Non abbiamo intenzione di fare la cronissoria degli ultimi vent'anni. Tanto la conoscete perché tutti l'abbiamo vissuta. Non abbiamo intenzione di parlare di cosa sono diventati gli istituti comprensivi. Bella idea, trasformatosi in un mostro ingovernabile. Però proprio perché questi anni 2000 continuavano anche da questo punto di vista piacerci molto poco, due anni fa abbiamo ripreso la vecchia abitudine di fare questo duo di copia senza timoniere perché il CD di Brescia ci ha invitato a parlare di lettura oggi e abbiamo ricostituito l'alternativa piacere e competenza Un po' di ironia anche. E' partito il... eccolo qua. Sì, con un po' di ironia io ho portato questa indagine, quella che vedete sulla sinistra che non è delle mie classi, è di Fisher, un'interessante indagine sociologica sulla lettura dei diciottenni nel 1997 e nel 2007 dove si può confrontare come radicalmente cambiata la tipologia degli autori che dal 1997 al 2007 leggono i diciottenni a Torino quelle sono due domande di comprensione del testo dell'invalsi che mi fanno particolarmente male per due motivi. Tre. Dico due, sono sempre tre. Tre motivi. Perché il terzo poi me lo dimentico. Uno è che sono fatte su un testo che io ho amato moltissimo insieme a quelli di cui vi parlavo prima è che è Titanio di Primo Levi. Titanio di Primo Levi ogni tanto vinceva ma bisognava impegnarsi perché Titanio è un testo concreto. Vinceva anche lui in seconda, era uno dei testi da secondi. Titanio è stato introdotto in molte antologie dopo quegli anni, di solito trattato abbastanza bene. L'invalsi lo prende nel suo momento peggiore, non del testo, dell'invalsi. Il progetto pilota. Il progetto pilota, rispetto a chi trova oggi l'invalsi in una situazione critica, andate a vedere le domande del progetto pilota. Su questo testo ce ne sono, mi pare, 18-19. E due sono quelle che ho riportato lì, che vi leggo velocemente, perché è il secondo motivo per cui proprio non è accettabile questa attività fatta sul testo. Le due domande sono una, nella lingua italiana il termine credenza può avere tanti significati ma non quello di fede, convinzione, maldicenza, armadio, giusto. Chiamasi distrattore apposta in modo che almeno il 50% degli allievi lo metta giusto. Soprattutto se in regioni dove l'armadio si chiama credenza. E quindi anche un po' razzista. Infatti il progetto pilota veniva fatto in Svizzera. Si capisce da questa domanda. L'altra domanda è, nella frase, due punti aperte virgolette, con due passi le fu vicino, a quale categoria morfologica appartiene le? Pronome di luogo. Esistono i pronomi di luogo? Costi. Non lo so. Ma quello è un avverbio di luogo. Adesso chiedo a Angeleli che corregge la rivista. Pronome personale, pronome dimostrativo, articolo determinativo. Questa è la tipica domanda che non si deve fare perché la domanda di comprensione nella frase con due passi le fu vicino è chi le fu vicino. Perché quella è la domanda di comprensione. Queste sono domande di grammatica. E queste due domande sono particolarmente perverse perché premiano due miti difficili da vincere negli insegnanti di italiano. Il lessico e la grammatica. Due monumenti al retro. E se l'invalsi ci si mette pure lui a incentivare lessico e grammatica soprattutto gestiti così allora diventa un po' complicato. Invece bisognerebbe davvero studiare le domande di comprensione degli invalsi confrontarle con quelle delle antologie confrontarle con le nostre decidere che cosa è per noi una prova di verifica di comprensione del testo. Non possiamo più continuare a subire quelle che arrivano per fare tra l'altro un'altra cosa per verificare lo stato di comprensione generale del paese ma non parliamo dell'invalsi. Parliamo invece velocemente di che cosa è successo ancora nel 2000 che abbiamo chiamato contraddittorio perché a Brescia quando vi dicevo che andammo a parlare ancora di queste cose io raccontai le cose che vi dicevo prima sull'invalsi e Pino cercò di dare qualche buon consiglio no? Sì questo è quello che cerchiamo di fare ancora oggi tra l'altro nel 99 poi è uscito è nato il Pepe Verde un po' come una scommessa si diceva vediamo se arriviamo al numero 10 ed è una cosa che è importante continuare a fare perché gli insegnanti gli educatori i bibliotecari per far svolgere la loro funzione di mediatore hanno bisogno di conoscere di conoscere i libri per ragazzi la letteratura per ragazzi ci sono tanti modi per farlo ci sono siti riviste online ci sono le nostre riviste di settore non solo il Pepe Verde naturalmente ecco qui si aprirebbe ma non lo facciamo perché il tempo è finito un discorso sulle famose liste di lettura ne abbiamo parlato anche recentemente su insegnare più di una volta perché d'estate o a Natale si ripete ogni anno questo questo rito delle liste di lettura che danno gli insegnanti non parlo di voi che siete qui e che spesso sono non sempre con le notevoli eccezioni sono quanto di più triste e desolante si possa immaginare e allora c'è bisogno di conoscere c'è bisogno di essere aggiornati c'è bisogno di fare anche formazione forse per dimostrare che questi consigli continuano a essere utili e necessari tanti anni dopo a un certo punto come succede spesso quando si parla di queste cose una giovane insegnante alzò la mano noi eravamo molto contenti che fosse giovane così come siamo contenti che ce ne siano qua oggi gli insegnanti giovani una collega dal fondo alzò la mano e disse sì siamo d'accordo con quello che avete detto però la mia collega in terza è preoccupata perché non riesce a finire Leopardi e io le risposi immagini come il preoccupato Leopardi perché in realtà questo diritto di amare talmente Leopardi da sottrarlo all'uso che se ne può fare nella scuola media è un diritto che va rivendicato anche se mi dicono che l'insistenza di Tulemon dei genitori del mondo circostante del personale non insegnante perché si lega Foscolo perché si lega gli autori classici quelli che c'è tempo a leggere e a capirli dopo si è fatta ancora più pressante in questi anni anche per gli autori di antologie ci arrivano dal commerciale queste richieste se no dovete dare molto più spesso ai classici perché gli insegnanti vogliono fare i classici infatti un collega in un corso di Brescia che stiamo tenendo come CD di Brescia a Brescia terza media ha detto non toglietemi Carducci e guardate che lo fa per un motivo progressista perché lui con il Carducci risorgimentale vorrebbe dar argine alla Lega peccato che col Carducci risorgimentale in terza media non dai argine a nulla soprattutto non generi la comprensione del testo perché il Carducci risorgimentale come dire ha alcune difficoltà e allora noi ci ritroviamo qua rieccoci qua ostinatamente perdonateci se abbiamo voluto parlare del passato ma adesso da tutti i relatori in poi si dedicheranno al presente adesso ci sarà il convegno certo adesso ci sarà il convegno quello vero e siamo qui siamo qui in tanti e ci fa piacere per davvero per confrontarci per ascoltare per scambiare idee per guardare all'oggi non solo al tempo in cui eravamo tutti più giovani e domandarci qual è la strada da percorrere perché il piacere di leggere cioè i libri sono sono uno strumento di piacere come come l'alcol la droga il sesso non sono il fine ultimo della vita non sono neanche obbligatori scrive Alessandro Piperno nel suo manifesto del libero lettore allora ci domandiamo che cosa vuol dire oggi coltivare il piacere di leggere e abbiamo invitato proprio delle persone che ci aiutino a capirlo a trovare delle piste delle strade non è un momento facile perché per noi è un momento facile parlare di lettura di piacere di leggere di formazione di lettore in una scuola dove se ti fermi sotto un albero a leggere un libro arriva qualcuno e te lo certifica come compito di realtà e poi la sicurezza oppure come alternanza scuola lavoro dove è la sicurezza se ti fermi sotto l'albero è la sicurezza la sicurezza vabbè la 2626 non ti lasciano leggere a leggere no si può leggere sotto un albero però abbiamo voluto provarci lo stesso abbiamo perfino deciso che Biscetti e Bignamini andavano a intervistare Pennac che Paolo ha parlato andava a intervistare De Luca a Napoli non potendoli avere qui sì tra l'altro parlato detti parola Pennac a pensarci bene se vi siete accorti i relatori li scegliamo in base al cognome che abbiano a che fare con la lettura con la scrittura magari chissà che abbiano anche qualcosa di interessante da dire speriamo allora buon convegno buone letture buone letture ma sarà servito a qualcosa per 30 anni in seguire piacere e competenza ma forse è servito è servito a essere qui e poi per quanto riguarda il futuro il futuro lo diceva lo diceva già Giacomo sì lo diceva Giacomo ok così vorrei ancora io se avesse a rivivere e così tutti ma questo è segno che il caso fino a tutto quest'anno ha trattato tutti male e si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene se a patto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e il suo male nessuno vorrebbe rinascere quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce ma quella che non si conosce non la vita passata ma la futura con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice non è vero? speriamo dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete ecco illustrissimo cotesto vale 30 soldi ecco 30 soldi grazie illustrissimo arrivederla almanacchi almanacchi nuovi lunari nuovi applausi 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 applausi